Ancro, segna d'acqua e passano armi. Che tempo è di qua? Due di quadri. Lei ha visto due di quadri nel marzo? Sì. È sicura che c'è due di quadri? Sì, sì. E se non ci fosse, sarebbe incredibile. Sì, l'ho vista. L'ho vista. Lei ha visto? Allora, facciamo così, facciamolo ancora più possibile. Guarda, non di quadri, vero? No, 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 quadri, quadri. Eccolo là. L'abbiamo vista. No, c'era, eh? Sì, sì, sì. C'è, c'è. Ed è questo. Ok, quindi se li dite così ferma e non si muova, indecchino la cortesia, dica stop quando la guarda, stop, per l'apposità, non la guarda. Ora stia attento, guarda. Giri. Mi fa paura a me questa roba. Io c'ho paura, quindi. Mi ha già paura. Interessante. Ma c'ho paura, signor. Ma io c'ho paura. Ma anch'io c'ho paura, ma sei italiani? Ma voi se ne reagiamo. E' stato bello, piacere. Arrivederci. Buona fortuna.